Si chiama Nemo, ha più di cento anni, è l'ultimo uomo sul pianeta Terra. E con uomo si intende essere umano immortale. È vecchio, è protagonista di un reality show, non ricorda. Poi a un tratto rivive il suo passato, ma voilà mes amis, il passato prende forme diverse. Sono tanti, troppi passati, accavallamenti di storie e persone, piccole variazioni che producono effetti stragnanti. Mr. Nobody è un film di Jaco Van Dormel, del 2009. Insomma, è un film che ha già spento 12 candeline, ma che ci proietta in un futuro tutto a sciaio e luce. Un paradiso o uno studio televisivo ti viene da chiederti, entrambe le opzioni hanno senso. Perché solo in un sogno e solo in tv c'è possibile costruire salti temporali e spaziali e creare una mappa concettuale con buchi narrativi e percorsi alternativi. Sarà tutto un sogno, quindi? Sarà un programma tv fantascientifico in cui il 118enne Nemonobody, magistralmente interpretato da Jaret Leto, vive in una sorta di incoscienza sensoriale? Le interpretazioni, se possono dire, sono molteplici. Se lo sono per il protagonista, perché non dovrebbero esserlo per l'ospettatore? Psicologia, filosofia, paranormale, sogno, medicina si uniscono all'incredibile fotografia di Christophe Bokarn e alle musiche di Pierre van der Mol, all'epoca defunto da un anno. E ci fanno riflettere sul senso dell'umanità. Ma non credete sia una riflessione fine a se stessa che rimane in superficie? Tra le infinite possibilità di sviluppare una coscienza e di legarsi a un determinato destino, l'uomo, nel mondo tridimensionale, è costretto a sceglierne una e una soltanto. Ma cosa accadrebbe se esistessero mondi paralleli in cui fare e rifare, costruire, distruggere, in linee logiche distorte e sempre nuove? Nei monobody ce lo mostra e, come ovvio, non ci dà una risposta finale. Corrievo voulu changer a propos de votre destin, mi chouchou.